La Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato la sentenza emessa da giudice civile del Tribunale di Sulmona a carico dell'aggressore dell'Avvocato Vincenzo Colaiacovo rigettando l'impugnazione presentata dalla difesa. Si tratta del 78enne di Bugnara che esattamente tre anni fa il 27 giugno 2020 pianificò un vero e proprio agguato davanti al portone della casa studio di Colaiacovo nella centralissima via Carrese a Sulmona. Una brutale aggressione come emersa in fase di indagine legata a motivi personali e professionali. Due giorni prima il 25 giugno dello stesso anno l'anziano aveva perso una causa civile nella quale la controparte era proprio Colaiacovo. All'uomo era stato comunicato che a seguire la sentenza dei giudici avrebbe dovuto pagare all'Avvocato 7.000 euro di risarcimento per averlo insultato ritenendo di non dover corrispondere alcune spese che erano invece dovute. La sentenza in questione è stata appellata in sede civile da 78enne. La corte ha rigettato dando ragione all'Avvocato Sulmonese. Per l'anziano è arrivata pure la condanna a sostenere le spese di giudizio. Quanto all'aggressione vera e propria si attende la fissazione dell'udienza in corte d'appello. In primo grado nell'aprile dello scorso anno il 78enne era stato condannato a tre anni di reclusione in sede di udienza preliminare dopo essere stato giudicato, corrito, abbreviato. L'anziano quella mattina di tre anni fa aveva inseguito in bici raggiunto sotto casa illegale fino a prenderlo abbastonato e costringendolo a ricorrere alle cure ospedaliere. Si rese necessaria l'osservazione in prognose riservata, tant'è che, come certificò la perizia di parte di Ildo Polidoro, l'aggressione avrebbe potuto cagionare il decesso. La sentenza è stata appellata mentre è in corso il giudizio civile, nell'ambito del quale Cola Iacovo era stato utilizzato dal giudice a porre sotto sequestro conservativo i beni del suo aggressore per un ammontare di due 150 mila euro. Sono oltre 9.300 gli interventi ispettivi e 3.189 le indagini eseguite dal comando della Guardia di Finanza Abruzzo nel 2022 e nei primi mesi del 2023. A tracciare il bilancio operativo il comandante regionale, il generale Gianluigi D'Alfonso, nell'ambito della cerimonia per i 249 anni del corpo. Questa è un'occasione per fare un po' un bilancio, un bilancio dell'attività svolta nel 2022, nei primi cinque mesi di quest'anno. L'approccio del comando regionale di finanza d'Abruzzo è stato quello di contrastare le maggiori fenomenologie di criminalità economico-finanziare che danneggiano le famiglie, che danneggiano le imprese e impediscono la ripresa economica. Voi sapete che abbiamo vissuto ogni anno scorso un periodo di crisi economica dovuto anche e soprattutto la pandemia, l'aumento di prezzi, il vicino conflitto bellico e quindi c'è bisogno di supportare l'economia, di supportare il rilancio economico. La Guardia di Finanza con la sua attività vuole contribuire a questo cercando di individuare quelle fenomenologie che danneggiano proprio le imprese oneste, le famiglie oneste e i contribuenti onesti. Per quanto riguarda l'attività di contrasto a frodi ed evasione fiscale, sono state accertate violazioni per circa 15 milioni di euro di crediti d'imposta fittizi riguardanti sia il bonus in materia edilizia ed energetica, sia quelli connessi al PNRR e 2,2 milioni di euro di crediti inesistenti o non spettanti. Sono stati scoperti 222 evasori totali e 528 lavoratori in nero o irregolari. Sono 1.155 i soggetti denunciati per reati tributari con beni sequestrati per circa 9 milioni e 600 mila euro. Per quanto riguarda la tutela della spesa pubblica, svolti 1.227 interventi, cui si aggiungono 668 indagini delegate dalla magistratura nazionale ed europea, al cui esito sono stati denunciati 597 soggetti e segnalati alla Corte dei Conti 62 responsabili in relazione all'accertamento di danni erariali per oltre 13,4 milioni di euro. In tema appalti monitorati i contratti per circa 600 milioni di euro, di cui 300 mila riferibili a investimenti finanziati con risorse del PNRR. Nell'ambito della ricostruzione post-sisma a seguito dei terremoti 2009-2017 sono state svolte indagini e controlli per un totale di 1.500.000 euro di appalti, con danno erariale totale accertato pari a oltre 500.000 euro. Capito la parte il contrasto della criminalità organizzata ed economico-finanziaria, 116 persone denunciate e sequestri per 9 milioni di euro. I sequestri per usura ammontano a 27.000 euro. Concluse 7 indagini per il contrasto alla criminalità organizzata, che hanno portato a 46 denunce e 16 provvedimenti restrittivi della libertà personale. Nella lotta allo spaccio, sequestrati circa 98 kg di sostanze stupefacenti. A tutela del mercato, sequestrati circa 3,7 milioni di prodotti contraffatti. La finanza è impegnata nelle operazioni Montenegro 2022 e Montenegro 2023, attività di soccorso alpino con 259 interventi, che hanno permesso di portare in salvo 300 persone e recuperare 33 salme. La normalizzazione del consumo di cocaina, la sua combinata con l'alcol, hanno spinto gli operatori del CERD e dell'area Perigno-Sangrina a scendere in campo per la giornata contro l'abuso e il traffico di droga, che sarà celebrata il prossimo 26 giugno. Il CERD organizza in particolare un incontro di formazione presso i principali punti di accesso del presidio ospedaliero di Sulmona e del distretto sanitario. L'equip sarà presente e disponibile per fornire attività di counseling e orientamento. L'obiettivo è quello di far comprendere quali siano i segnali precoci per riconoscere il fenomeno della dipendenza. Si parlerà di dipendenza da sostanze stupefacenti illegali, come roina, cocaina, cannabinoidi, nuove droghe. Un'attenzione particolare sarà dedicata alla dipendenza da alcol, gioco d'anzardo patologico e la caduta nella rete. La dipendenza è plurale, insomma, in linea con la mission della struttura che si sta sempre più aprendo al tessuto sociale cittadino. L'effetto si tocca con mano nella crescita delle richieste di aiuto di utenti presi in carico nel primo semestre del 2023. Lo scorso anno, in 400, avevano bussato le porte del CERD. In prevalenza l'utenza è maschile diplomata, con lavoro stabile o precario, appartenente a una fascia socio-economica bassa o media, tuttavia una quota modesta rappresentata da persone laureate professionisti, cosiddetti insospettabili. Il trend di consumo più diffuso, rappresentato dalla combinata di alcol e cocaina, l'uso di eroina avviene principalmente per via inalatoria, mentre le overdose sono meno frequenti. Certo è che parecchi casi restano sommersi per via dell'approccio culturale, dello stigma, della mancanza di informazioni che condizionano l'accesso a servizio. Per questo il CERD sta implementando la cooperazione intersettoriale facendo rete con la neuropsichiatria infantile, i consultori familiari, le scuole, dove il servizio è ormai radicato, dove sicuramente bisogna continuare a lavorare visto l'aumento del poliuso, del gioco d'azzardo, del consumo di spinelli, degli episodi di ubriachezza, certificato da fonti autorevoli europee già prima dalla pandemia. Si è inoltre abbassata la soglia d'età del primo contatto con fumo e alcol. Si comincia da meno di 14 anni, ovvero dalla scuola media, preoccupa e non poco la normalizzazione della cocaina come sostanza ricreativa del consumo di quantità elevate di alcol sia tra i giovani sia tra le persone di medietà. Si tratta di fenomeni insidiosi, come spiegano dal CERT, poiché spesso l'alcol può fungere da prepista verso il consumo di cocaina e altre sostanze. Il primo atto di forza, contrariamente a quanto si pensa nell'immaginario collettivo per via di un paradigma che viene invertito, è quello di chiedere aiuto. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, Alessandra De Marco, ha fissato un nuovo incidente probatorio per l'inchiesta sugli anziani genitori maltrattati in casa a Raiano. L'udienza si svolgerà il prossimo 6 luglio, quando davanti al GIP sarà ascoltata la persona offesa, ovvero l'anziana madre di una 56enne che risulta indagata per la brutta vicenda di violenza domestica. La donna, nei mesi scorsi, era stata rinchiusa prima in carcere e poi domiciliari a Corfinio per aver violato la misura dell'allontanamento della casa familiare, resasi necessaria per l'abitualità dei maltrattamenti contestati. Nelle scorse settimane è stata rimesse libertà. Il suo avvocato, Giovanni Passerini, ha chiesto e ottenuto l'incidente probatorio a fine di cristallizzare il quadro delle accuse. Secondo l'imputazione, con una condotta perdurante dall'estate del 2021, la donna avrebbe posto in essere con cadenza quotidiana ripetuti atti di violenza fisica e psicologica nei confronti degli anziani genitori, soprattutto nei confronti della madre. Nell'estate 2021 le avrebbe lanciato una bottiglia in pieno volto cagionando le lesioni non refertate. Il 4 settembre 2021 avrebbe impedito alla madre di uscire dalla propria camera da letto, di chiedere aiuto bloccando la porta con il manico della scopa, impossessandosi del telefono cellulare. Il 4 dicembre avrebbe aggredito il padre con dei cuscini, mentre la sera del 14 e la mattina del 15 dicembre sarebbe entrata nella camera da letto dei genitori, mentre dormivano, avrebbe sputato sul volto della madre, da cui l'allontanamento dalla casa familiare, un primo incidente probatorio nel corso del quale era emersa una parziale incapacità della donna nei momenti di rabbia. Ora, secondo il giudice e la difesa, è necessario mettere le prove in cassaforte, sentendo anche l'anziana persona offesa. Sul Mola diventa la capitale del calcio abruzzese. È stato un momento celebrativo importante per tutte le società al termine della stagione sportiva 2022-2023, sul palco del Teatro Maria Caniglia, di scena il calcio che conta, i rappresentanti delle squadre vincitrici dei campionati. Anche l'allenatore del Frosinone, ne promosse in serie A, l'ex campione del mondo Fabio Grosso, ha voluto prendere parte da remoto, facendo pervenire un video messaggio, dove si intravede una palma che lascia presa a gira una location balneare. La sua assenza potrebbe essere stata condizionata dall'accordo non raggiunto con la Sampdoria. Presente è il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha parlato dello stato di salute del calcio abruzzese. Se ci riferiamo al calcio di vertice, sicuramente è così. Io, che ho il polso della situazione anche nel grande impegno del mondo del volontariato in questa regione, devo fare un plauso a tutti coloro che impegnano risorse non solo finanziarie, ma il loro tempo, la loro passione, il loro senso di responsabilità. A me piace valorizzare questo, a me piace enfatizzare tutto quello che questi volontari del mondo, che rappresentano la grande base, la larga base del calcio italiano, continuano a dimostrare grande fedeltà ad una passione, che è la passione per il calcio, ma soprattutto la passione per il calcio legato al loro territorio. E in questo l'Abruzzo credo che meriti una menzione d'onore. VIVI LA VITA Una mossa documentaria, con reperti tratti dagli archivi del Marchese Mazzara, è stata allestita nella locale dell'Archivio di Stato Sezione di Sulmona, con la collaborazione della Scuola Popolare di Musica di Sulmona e del patrocinio ABM Abruzzo Beni Musicali. Si tratta di documenti spesso inediti, spartiti musicali appartenenti alla collezione Mazzara, anche spartiti di grandi compositori, come Verdi ed altri. In passato le famiglie nobili dedicavano molta attenzione alla cultura, in particolare alle grandi composizioni musicali, abituando i rampolli alla grande musica. Da qui il titolo, note d'archivio, il Marchese Mazzara ed il Salotto Musicale. Si tratta di autentiche recornie per gli appassionati della ricerca e della grande musica dei secoli d'oro della musica italiana. Ha inaugurato la mostra Massa Vittorini, direttore dell'Archivio di Stato dell'Aquila Sulmona Abezzano. Saluti da Giulio Gianferice, presidente dell'Associazione Scuola Popolare di Musica di Sulmona, il quale ha anche seguito alcuni brani dal piano Forse, brani scritti da Falzer e Matticoli. Sono intervenuti Fabio Valerio Maiorano, esperto di araldica, Gianfranco Miscia, licenzo di documentazione e ricerche musicali Francesco Masciangelo di Lanciano, falso e matticoli dell'Associazione di Scuola Popolare Musica di Sulmona. La mostra è incentrata sull'attività musicale in casa Mazzara. Come in tutte le famiglie nobili, la musica era un elemento di educazione per i giovani rampolli di società. Anche la famiglia Mazzara ospitava nel proprio salotto musicale degli eventi di musica. Oggi qui sono esposte alcuni documenti musicali scritti appositamente. Sono degli spartiti. Sono degli spartiti, sì. Sono scritti appositamente e dedicati ai membri della famiglia Mazzara, quindi a Vincenzo Mazzara, alle figlie. Ci sono anche delle riduzioni per cante e pianoforte di famose opere teatrali di Verdi, tutti appartenuti alla ricchissima biblioteca musicale del Marchese Mazzara. Un lunghissimo lavoro che non solo matticoli, che la città porta avanti da tanto. Ricordo che la nostra prima iniziativa congiunta, data addirittura a 2000, con una mostra dedicata a Cipollone, a Mattia Cipollone che è stato maestro di cappella all'Annunziata, originario di Lanciano, e lì fu l'inizio di una lunghissima collaborazione. Sono passati 13 anni. Ci siamo ritrovati più volte su questo discorso della musica che continua a mostrarci sorprese interessanti e arricchisce il nostro patrimonio di conoscenze e direi anche di documentazione perché vediamo come anche in questa situazione, parlando dei salotti di una dimensione più privata rispetto alle tradizioni teatrali e più pubbliche, sono ricchi di documentazione e ci mostrano relazioni interessanti che collegano i territori dell'Abruzzo e non solo. Quindi sicuramente è una scoperta importante. L'alfa malnosidosi è una malattia ereditaria ultra rara, colpisce circa un neonato su 500.000 con una diagnosi che risulta particolarmente complessa. E questo è il tema dell'evento organizzato da Motore Sanità a Roma, alfa malnosidosi, Road to the First National Day. Presenti le istituzioni, le associazioni di pazienti e i maggiori esperti in campo. Ascoltiamoli in questo esercizio. Noi ci siamo sempre interessati anche ad alcune, non tutte, ad alcune malattie affini fin quando i genitori di questi pazienti, nello specifico di alfa malnosidosi, non apriranno una loro associazione nazionale. In attesa di questo li seguiamo noi a 360 gradi. Considerando poi che l'alfa malnosidosi è una malattia ultra rara, chiaramente è molto complicato creare un'associazione ex novo. Però comunque noi finché possiamo li seguiamo e quindi diamo gli aggiornamenti del caso. Facendo parte di un network che va dal Canada all'Australia, se c'è una novità scientifica anche per l'alfa malnosidosi, noi lo sappiamo, abbiamo la fortuna, quantomeno per quanto riguarda l'alfa malnosidosi, di avere una terapia italiana, peraltro tutta italiana, per cui siamo molto felici di questo e speriamo appunto, quanto prima, di poter migliorare ulteriormente anche la cura di questi pazienti. Esperti che hanno visto migliaia di casi malattie metaboliche o l'issosomiale, questa è una patologia in cui manca un enzima e i lissosomi si ingorgano di una serie di sostanze e quindi le cellule cominciano a non funzionare in vari organi. E questo esperto diceva, io in tutta la mia vita ho visto solo tre casi. Questo ci fa riflettere molto, ci fa riflettere molto per due strade. L'una, la diagnosi precoce, oggi abbiamo un'arma importantissima, è lo screening neonatale, quindi dobbiamo assolutamente lavorare, accelerare la ricerca perché questa patologia possa entrare nello screening. Dall'altro lato, questo richiederà del tempo e quindi dobbiamo formare, formare, formare. L'Italia è ai primi posti in Europa per screening neonatali, grazie alla legge del 2016 con il governo Renzi, grazie agli interventi successivi nella scorsa legislatura per estendere ulteriormente le malattie ricomprese negli screening neonatali. Eppure ancora non tutto funziona al 100%. Non tutte le regioni sono state ugualmente attente nell'attuare la normativa sugli screening neonatali. Per questo, come intergruppo per le malattie rare, in modo trasversale, abbiamo proposto con degli emendamenti, quindi con una proposta legislativa, un maggior monitoraggio sulle risorse e un vincolo di destinazione delle risorse degli screening neonatali perché le regioni effettivamente non le destinino ad altri scopi, per quanto sempre nel settore della sanità. Grazie ai medici che ci hanno preso in carico a 360 gradi, sia come malattia ma anche come famiglia, nella difficoltà comunque di avere una diagnosi di questa malattia ultra rara. Però oggi possiamo sperare che questa storia si possa ripetere anche in altri bambini e questo attraverso la diagnosi precoce. Più conosciamo, più sensibilizziamo e più possiamo rendere questo possibile ad altre persone. Grazie a tutti.